Allora, a Crusone c'è questo sviluppo di piste ciclopedonali e c'è anche addirittura la Polizia Locale che si dota di due ruote non motorizzate. Non motorizzate. È una cosa che fa molto piacere ad Aribi, Aribi, FIAB e Bergamo. Facciamo parte della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Fa molto piacere perché per il presidio del territorio scegliere un mezzo ecologico denota comunque forte attenzione da parte degli amministratori locali e quindi questa cosa non può che farci piacere. Abbiamo saputo appunto che Crusone, dopo tutto il fermento che si era respirato negli anni scorsi quando qui hanno cominciato a crescere numerosi associati, ora addirittura fa anche scelte di questo tipo. Grazie mi è stato riferito all'interessamento del sindaco e del suo staff per cui ben venga, ben venga anche perché la bicicletta arriva dove la macchina non può arrivare e quindi garantisce un miglior presidio sicuramente. E in più c'è anche questa rete ciclopedonale che continua ad ampliarsi sul territorio dell'Alta Valle. E anche questo sicuramente è un segno forte di una grande volontà di andare incontro al popolo dei ciclisti ma inteso come persone che hanno un forte rispetto dell'ambiente e vedere che su un territorio bello come la Valle Seriana, la Valle di Scalve, che si stanno intensificando questi reticoli che connettono magari le cittadine principali con delle piccole frazioni, è sicuramente di forte utilità. E sappiamo anche che le piste ciclabili sono un forte attrattore turistico. Abbiamo infatti dati rilevanti su quanto sono battute frequentate, specie nei giorni festivi, sabati e domeniche, le vediamo sempre più frequentate da intiere famiglie ma anche gente che passeggia, quindi non è utilizzata solo ed esclusivamente dai ciclisti ma anche da chi ama passeggiare nel verde in percorsi protetti.